Questo collage si intitola Autoritratto con la cravatta di Duchenne. Infatti, come si può vedere, si tratta di un collage che sostanzialmente ho applicato su un pezzo di cartone una fotografia che ho fatto a me stesso, un autoritratto fotografico sfocato, volutamente sfocato, e poi ho applicato degli oggetti, per così dire, su questa immagine. Intanto tre chiodi, come se la mia stessa immagine fosse un feticcio da esorcizzare, cioè un oggetto così simbolico, rituale, da ritualizzare, appunto, da esorcizzare. D'altra parte, l'opera si collega, questo collage si collega alla serie delle emozioni, perché ho applicato nella parte sinistra del supporto questa cravatta con le immagini degli studi di Duchenne, che sono stati fondamentali per la mia ispirazione relativamente alla serie delle emozioni. Ho trovato davvero questo oggetto su internet, un oggetto molto strano, e quindi l'ho inserito qui a fare appunto da contraltare, diciamo così, alla mia immagine.